Ripartono gli scavi archeologici al Colle del Pionta con un'importante novità. I lavori prenderanno infatti avvio con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, concesso all'Associazione Culturale Accademo per l'intervento archeologico, con rilevanti finalità culturali legate alla storia antica di Arezzo che sta realizzando al Pionta. Diciamo che è un riconoscimento importantissimo per l'attività che è stata svolta, attività di tipo culturale, di tipo scientifico, soprattutto per il riconoscimento e il ritrovamento degli origini della città di Arezzo. Quindi per la città è importantissimo, ma è importante anche perché accende i riflettori su una parte della nostra città che, come sappiamo in questo momento, crea anche dei problemi, che sono di secondaria importanza rispetto al valore che c'è sul Colle del Pionta. Per cui io sono molto contento che Accademo si sia impegnata così tanto per fare dei ritrovamenti importantissimi che ancora non sono finiti e che devono andare avanti. Gli archeologi infatti sono pronti a mettersi nuovamente a lavoro. Inizierà mercoledì 5 luglio la seconda fase degli scavi. Da domani prenderà il bio uno scavo dietro l'abse della chiesina di Santo Stefano. Abbiamo iniziato l'anno scorso e quest'anno continueremo in quella sede lì a scavare perché è la sede diciamo più calda, è quella sede che probabilmente nasconde qualcosa di importante. Noi si spera il sepolcro di San Donato comunque qualche traccia del Duomo Vecchio. La ripresa degli scavi rappresenta solamente l'ultimo passaggio di un lungo percorso di studi che ha coinvolto varie realtà che a loro volta hanno dato il proprio contributo. Tra questi anche una ricostruzione 3D del Duomo Vecchio di Arezzo Alpionta eseguito dall'Associazione Culturale Accademo in collaborazione con il professor Verdini del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. È stata fatta non di fantasia la ricostruzione ovviamente ma è altamente scientifica perché come base è stata presa la pianta del Duomo Vecchio disegnata da Giorgio Vasari il Giovane. Quella è stata la base, fortunatamente quella è rimasta per poi in base ad altre catterrali della stessa epoca in base a certe pitture che ci sono, rappresentazioni antiche del Duomo Vecchio mettendo insieme tutti questi elementi hanno permesso al professor Giorgio Velliani di rifare una ricostruzione virtuale 3D molto bella. Grazie. Grazie.